Ola ragazzi, eccoci qua con un nuovo contenuto su DB Legends E zitto zitto, Vegito Blu si è preso un equipaggiamento platino Che forse non fa proprio per lui? Non si sa raghi, in ogni caso i buff sono grandi Quindi andiamo a provarlo con questo nuovo equip Che però non gli buffa l'attacco ma gli buffa Strike Defense, Blast Defense, Recupero HP e HP Non proprio il top per Vegito Ma in ogni caso penso che il PG possa rendere alla grande Anche dopo un anno e mezzo circa dalla sua uscita Raga, io vi chiedo come al solito Gentilmente un like per il supporto sulla fiducia Per chi fosse nuovo del canale, per chi ancora non fosse iscritto Contenuti nuovi relativi a DB Legends praticamente tutti i giorni Quindi iscrivetevi, attivate la campanella per non perdervi nulla E inoltre ho anche un secondo canale relativo a Pokémon Unite Vi invito a dare un'occhiata anche lì Detto ciò, vamonos con questo Equip Platino Per Vegito ma non proprio per lui Via! Eccolo qua l'Equip Platino uscito in concomitanza con lo Zenkai Awakening di Zamasu E appunto per tutti i personaggi appartenenti alla Future Trunks saga Quindi a Vegito calza a pennello Se non fosse appunto che come aveva anticipato Baffa, Blast Defense del 19.5% Strike Defense del 25.95% Potrebbe arrivare a un 30% E per concludere recupero HP e HP di un 8.6% e di un 9% Su un 10% massimo totale per entrambe Quindi l'Equip è questo Non è sicuramente il più indicato per Vegito Blue Che è un personaggio che punta a fare danni E il recupero HP lo sfrutta praticamente una volta Grazie alla Main Ability Di conseguenza lo accoppieremo a Vados In modo, non pensate male Da potergli far recuperare HP anche al di fuori della sua Main Raga, direi che non c'è nulla da aggiungere Andiamo in PvP e vediamo come rende il personaggio Bello equipaggiato Via Vamono! Steam Future! Partiamo di Vegito Ma non siamo messi bene di colore Ok, nice Perfetto Droppettino Ciao Gohan Bella Prossimo Team Super Saiyajin da Bardock di partenza Nice Oh, perfetto Ciao Buroli Mettiamo sto sanguinamento Speravo mi attaccasse Nada Allontaniamolo Blastiamo Dentro Bardock Stai autocrittando Bardock Non vale quando fai così Calmati Dentro il mio Vegito Very good Ok Ciao Buroli E direi che Rushiamo Di prepotenza Sto Broli verde Ok Prossimo Team Godki Yoshia Ok Bel PV Bel 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 PV Nice Nice Dentro Vados Spezziamo le carte E fermati Goji Abbassiamo i timer count di Vegito Va bene Very nice Pensavo sarebbe entrata Sarebbe entrata Vados Ho pensato troppo Mi sa di si Va bene Dentro Vegito Very nice Questo è morto Meno uno Perfetto Ciao Vados Sto è andata bene Che non c'ho Rising Rush Yo Ultimateizziamo E non penso che Goku sia pronto Penso che tu sia morta Vados E penso bene E resta solo Goku blu Ok Me la eviti No Va bene Questa se la prende Vegito Ok E ok Mettiti bello in posa Proviamo di Blast Voglio fargli danni massimi possibili Perfetto GG E prossimo match Raga Sempre devastante Vegito Team Hybrid Stiamo belli Attenti Ok Ciao Gonciallo Proviamo a mettere Zamasu Va bene Noice Dentro Vegito Ok La tappiamo Bel PV ma bro Altra Blast Strike Eccoci Abbassiamogli un po' il ki Fly down Gohan No 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 Torna in vita Piuttosto Su 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 che me l'hai fatta sporca O ci hai provato più che altro Ok clash Nooo Quanto accelerato Rip Ok Salviamolo subito Immediatamente Andiamo di Blast Ok Non penso che possa farmi fuori Va bene Recuperiamo HP Beitiamo Uh bella bella attesa Ok Zamasu Stanca No Come non detto Vamonos Vamonos Vediamo se riusciamo a farlo fuori O se mette con un red Mette con un red Ok Tanti danni anche per te Ok Meno uno Meno due E resta solo Gonpur Switch switch No Scordatelo Altro Rising Rush Mamma mia Ma cosa sei Karma bro Karma Prossimo Ultimo match G-Team Contro i draghi oscuri Più Gogeta Ragazzi Non c'ho più chi Mamma mia Nice Fail Ok Però qua l'abbiamo preso Andiamo di Blast Andiamo di Strike Ok Ok Un Gogeta è sprecato Aia Furbacchione Sì va bene Questa mi buffa Mi fa più buff Che danno Togliamogli il damage Redaction Ok Sono partito comunque in attacco E ti rascio Ma non c'ho altre Altre cose da fare qua Quindi vamonos Ottimo Basta Ah per un pelo Ok Va bene Meglio salevitavi Questa Blast Nope Gogeta Sì mamma mia Quanto male ti fa Non ho usato Leggito però In questo match Ok Uh evita Però questa La evito io Facciamo sta prova pazza Che tanto pazza Non è raga È una kill garantita È una kill garantita Questa Sbrindellalo Ok Ok Eliminiamo le carte Lasciami pure Non c'è problema Mille blast Hai una strike Sì ce l'hai Uno Due HP per tutti E GG Raga Vegito Un anno e mezzo dopo Pure con un equip Che diciamo Non gli appartiene Più di tanto È una belva Fatemi sapere la vostra Qua sotto Io vi mando un bacione A tutti quanti E ci vediamo presto Per un prossimo video Per un prossimo video Per un prossimo video Per un prossimo video Per un prossimo video